A Pescara la riqualificazione urbana passa dalla cultura e sosta anche nelle periferie, dove prova a portare bellezza. Dopo la programmazione estiva all'aperto, oggi sono stati presentati i progetti e le associazioni che gestiranno gli appuntamenti in questo inverno 2021-2022. Ho pensato di convocare questa conferenza stampa per far sì che le associazioni che fanno parte del progetto del bando delle periferie in collaborazione con la Presidenza e il Consiglio dei Ministri possano ragguagliarci su quella che è la programmazione che verrà presentata nei prossimi mesi, soprattutto puntando anche sul periodo natalizio. E' importante essere presente in tutte le zone della nostra città e soprattutto nella parte periferica che viene qualche volta un po' tralasciata. Anna Maria Talone, progetto Spazio Matta, è un progetto di rigenerazione urbana a base culturale. La sfida è quella di portare la bellezza in periferia, ossia proposte di arte e di qualità, però affiancate ad attività di coinvolgimento della cittadinanza. Luisa Del Greco, Associazione Movimentazioni Pescara, il nostro progetto si chiama Social Art e cerchiamo di portare l'arte e la creatività nelle periferie di Pescara. Rossella Micolitti, Associazione Culturale La Favola Bella, con il progetto Auditorium Cerulli, la casa delle arti per bambini e ragazzi. Finalmente a Pescara un centro polifunzionale a misura di bambino e per tutte le famiglie del quartiere e del territorio. Grazie a tutti.